Musica Calcio Coppa Italia Serie D, il Città di Foligno supera 2-1 la Iesine e passa il turno, riscattando così la beffarda sconfitta con la San Giovannese, decisiva per il Falco la doppietta di Bartolini, Gubbio in campo a Fano, volle Superlega la Sirza Fetikonad Perugia in tre giorni, vince due partite salendo al secondo posto in classifica, stasera le 21 su TRG1, teletronaca della vittoria su Padova, motori decisa la data dell'edizione 2016 del trofeo Fagioli. La più cordiale buonasera, ben ritrovati con l'informazione sportiva su TRG, nei 32esimi di Coppa Italia, di Serie D il Città di Foligno, ha piegato 2-1 al Blasone la Iesine e passa così il turno, decisiva per il Falco la doppietta di un ritrovato Bartolini, riproposto a titolare da Battistini al centro del tridente d'attacco con Cavitolo e Candelori. Prima rete al decimo del primo tempo, raddoppio dopo 11 minuti della ripresa, inutile la rete di Alessandroni per i marchigiani, in pieno recupero da segnalare il positivo esordio dal primo minuto di Santuccio per i falchetti che riscattano così la sconfitta interna di tre giorni fa con la San Giovannese. Ancora in campo invece il Gubbio a domicilio del Fano, vi ricordo la diretta con le interviste post-gara che potrete seguire su RGMI 3DO e sulle canale 604 delle digitali e terrestre. Naturalmente nei nostri prossimi appuntamenti informativi, l'ampio resoconto della partita. Il servizio è naturalmente le interviste. In casa Città di Castello si pensa alla prossima partita di campionato in casa dello Scandicci, dove sarà importante fare risultato dopo la sconfitta contro il Ghivizzano, partita domenica scorsa. Nel frattempo la società continua a lavorare sul mercato per farsi trovare pronta la riapertura delle liste fissata per la prossima settimana e magari mettere a disposizione almeno un paio di nuovi innesti già per la gara successiva con il Poggi Bonzi al Bernicchi. Intanto è stata fissata al 3 dicembre la data in cui sarà operato il centrocampista Donadi, infortunata al ginocchio. La decisione è stata presa e ufficializzata dopo un consulto tra società e staff medico con il benestare della famiglia del giocatore. Seduta pomeridiana per il Perugia, che continua a preparare la trasferta di sabato con l'Avellino al Partenio, valevole per la quattordicesima giornata di Serie B. Lavoro specifico per Salifu, il cui rientro in gruppo dovrebbe avvenire la prossima settimana. Continuano anche gli acciacchi di Fabinho, il brasiliano ha problemi al ginocchio ormai da un paio di settimane e la sua presenza in Eripina è in forte dubbio con il colombiano Zapata pronto a rilevarlo sulla corsia destra d'attacco. Recuperato invece Alassane, che contende un posto sulla corsia sinistra difensiva Spinazzola, considerando anche l'indisponibilità di Comotto. Causa squalifica. Il volley ora con la Superlega per fare il punto in casa Sir Safeti Conad Perugia, riduce da tre vittorie filate tra Coppa Cev e Campionato, ultima delle quali ieri sera al Palevangelisti, con Monza stasera inoltre alle 21 su TRG1, canale 111, andrà in onda la telecronaca del successo perugino in casa di Padova. La Sir Safeti Perugia, non stecca a fatto il ritorno al Palevangelisti dopo la sconfitta con Civitanova e torna a risultare assieme ai propri tifosi, regalandosi in attesa dei risultati che matureranno dagli altri incontri in programma per la settima giornata. La seconda piazza in coabitazione con Modena ha quota 15 punti, appena uno sotto, Civitanova a frutto di cinque vittorie e due sconfitte. Nonostante la ravvicinanza di impegni, ieri si è giocata solo i due giorni, dallo svolgimento della sesta giornata, la Sir non mostra piegamenti di genere, dominando la gara dall'inizio alla fine senza rischiare quasi mai e riuscendo a piegare il gioco insidioso di Monza, affidandosi ad un attacco esplosivo e micidiale composto da Fromm, Kaliberda e Altanasijevic. È proprio il serbo a firmare i primi tre punti della gara, si arriva subito prima al 10 a 7, poi al 14 a 8, dopodiché il coach Brianzolo va con Dio nella speranza di far rifiattare i suoi, chiama il T-Break. Perugia non abbassa il ritmo e continua ad attaccare, conquistando il primo set 25-19. Il primo vantaggio ospite arriva nel secondo set con il parziale di 3-4, poi il pareggio prima di un altro vantaggio che vale il 10 a 12. Perugia e Monza si sorpassano in continuazione fino ad arrivare ai vantaggi, i set poi si alternano, poi è Altanasijevic a far risultare Perugia sul 35-33. Monza non si arrende con Russo, arriva fino al 7-10, è sempre però Altanasijevic con la cooperazione di Giovie e Fromm a far riaffacciare in avanti Block Devils sul 18-16. L'attaccante serbo continua quindi a mettere a terra palloni su palloni, Birarelli in battuta lo imita e Monza finisce per crollare subendo 9 punti consecutivi fino al 25-17 finale. La serata si conclude con la festa sotto i tifosi, ora la Sir si concentra sulla seconda gara interna consecutiva, domenica infatti salirà in Umbria a caccia del colpo l'ex Privia Molfetta. I motori ora il Comitato Gubbino Corsi Automobilisti che è organizzatore del trofeo Luigi Fagioli per la propria gara ha accolto con favore la conferma della data storica nel post-ferragosto anche per la stagione 2016. La classica cronoscalata Umbra da molti definita Monte Carlo delle Salite si disputerà dal 19 al 21 agosto 2016 lungo il tracciato di 4.150 metri che dal caratteristico centro storico di Gubbio sale fino a Madonna della Cima attraversando la gola del Bottaccione molto nota in ambito scientifico e naturalistico. L'edizione consecutiva numero 51 sarà la nona prova del campionato italiano velocità della montagna ovvero la massima serie AC della specialità e ha ottenuto anche la doppia validità per la serie cadetto ovvero il trofeo italiano velocità della montagna nord e sud. Chiudiamo con la kickboxing non poteva iniziare in modo migliore l'avventura dell'atlete gubino Matteo Calzuola alla rassegna mondiale di Dublino in programma fino al 30 novembre Calzuola è salito sul ring per il primo incontro della sua avventura interna irlandese opposto al canadese Ben Galant nella categoria meno 67 kg un incontro combattuto benissimo senza sbavature strategicamente ben impostato un match in cui l'avversario canadese non è mai sembrato in grado di poter sovvertire le sorti del risultato con Calzuola che ha poi vinto per KO passando così il turno ora per Calzuola ci saranno i quarti di finale in programma nella giornata di domani contro l'irlandese nonché idolo locale Steven McAfee al fine di raggiungere le semifinali mondiali e con questa notizia si chiude il nostro appuntamento con l'informazione sportiva su TRG vi invito ancora a seguire naturalmente ci riferiamo alla prima edizione del nostro notiziario l'epilogo della diretta della gara del gubbio in terra marchigiana per la Coppa Italia a Fano ovviamente tutti gli aggiornamenti nel nostro sito internet www.trgmedia.it a me non resta che ringraziarvi per l'attenzione augurare un buon proseguimento di serata a me non resta che ringraziare un buon proseguimento di serata